eccoci qui in questo nuovo video della pre partita contro la reggiana di quest'oggi che si giocherà alle ore 15 andiamo subito a leggere le probabili informazioni è una rincorsa da obiettivi diversi quella di gubbia reggiana sfidanti quest'oggi in occasione della ventisettesima giornata del campionato di serie c di rone b allo stadio barbietta alle ore 15 il momento di forma della squadra di vincenzo torrente più che positivo ma adesso toccherà confermarsi continuare per temi rivali dell'aggruppamento è una reggiana motivata e carica miglia e quelle in corsa per la serie b che cerca di risposte stare le nostre vicenze dal suo primo posto in classifica all'istanza le sole quattro lunghezze la forbice potrebbe assottigliarsi ulteriormente con le prossime che saranno giornate di fuoco accesa è stata anche l'andata con un 1 a 1 al mapis stadium deciso dalla rete ospite di zanoni difesa poi dal locale mattia marchi qui gubbia tanta assenza per vincenzo torrente che rientra in banchina dopo la squalifica tra infortuni e squalifica rinuncia cinaia maini dei silvestri maraccari pochi dubbi è scelto e obbligato quasi per torrente che deve salutare anche le condizioni di mugnats oltre quelle di conate che in settimana ha subito una botta i due dovrebbero comunque partire ritornare in avanti a venne la fianchella buonito comez qui la reggiana rientra uno spanò e varone per loro c'era mai ritornare rispettivamente in difesa centrocampo nel 3 4 1 2 di massimiliano alvini sono a 3 quarti ci sarà serrotti mentre per l'atto sinistro è rotta 3 tra il favorito kirwan favalle e lunetta nella coppia attaccante aumentano le scienze di scappini al fianco di zamparo occhio però al carbo l'unico da senso sono quelli di narduzzo e rossi il gruppo si dovrebbe schiare con il 352 ravaia con a te coda bacchetti munoz maledetti medialaiti slatti filippini gomma setta vennelli all'esposizione zanellati bango battellini bove dubixas meli montanari ricci sorbelli zanuna rotore torrente reggiana quel 3 4 1 2 venturi spanò costa martinelli libutti varone raddrezza che ruan serrotti scappini zambaro all'esposizione voltolini rozio specie perlizzare favalle lunetta valenzia staiti zanini carbo brodic e marca allenatore alvini ci sono almeno tre giocatori ex gubbio tra cui venturi specie e lunetta se non sbaglio se perché c'è se non sbaglio c'erano due di lunetta questo deve essere l'ex gubbio e niente l'arbitro è luigi carella lascio a voi ogni considerazione su questo albitro oggi prevedo una guerra incredibile allo stadio visti precedenti con questo albitraccio perché è un albitraccio ahimè mi ricordo con con il pordenone non dita almeno due tre rigori netti per carità pessimo 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 davvero uno dei peggio albitri e continua quindi la carrellata di arbitracci a gubbio ma purtroppo tanto ci siamo abituati prevede un macello incredibile almeno le clamorosi come si dice almeno le clamorose stati di forma incredibili dell'albito ma prevedo un macello incredibile sotto questo ambito poi che la reggiana sia forte quello non lo mette nessuno in doppio ma io spero di vedere una partita che non influiscano gli albitri perché ultimamente gli albitri e abbiamo visto anche ieri con il milano vogliono fare i protagonisti del grandissimo cazzo onestamente e c'è anche ancora che difende ma io onestamente messa le ha rotte un po le scatole di fernesti albitri perché nonostante le tecnologie in campo continuano a far parlare di loro e continuano a far rovinare le spede le parti delle squadre questa è una cosa che secondo me è davvero ingiusta perché uno fa i sacrifici fanno delle rose per vince e giustamente vengono rominate da questi pseudo arbitracci del cacchio e niente questo è tutto appuntamento a dopo per vedere come è andata la partita speriamo bene ma noi non so granché positivo ma non perché per il gubbio perché il gubbio adesso è davvero in forma ma perché questi arbitri ci azzoppano le gambe e c'è un cacchio da fa quando te pieno d'angiù non c'è niente da fare purtroppo io spero che il gubbio regga fino al 95esimo e dimostri quello che ha dimostrato finora deve essere una grandissima squadra per adesso o in questo periodo e niente appuntamento a dopo e sempre 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 forza gubbio